con il caldo di agosto arriva anche la super convenienza dei saldi di gibbini calzature quest'anno i saldi durano solo 30 giorni 30 giorni di pura convenienza come le scarpe da donna a partire da 9 euro e 90 gibbini prima ancora che saldi e qualità siamo noti per l'attenzione alla cerimonia e non solo per la sposa e lo sposo anche familiari e gli invitati possono trovare qualità assortimento e servizio personalizziamo le scarpe sia nel colore che nell'uso di tessuto o pellame gli abbinamenti con gli accessori sono davvero curati abbiamo la scarpa giusta per ogni situazione per le ragazze per le donne e per le signore anche nel reparto moda comoda ballerina e donna a 19 euro decoltè a 29 e 39 euro adesso sandali scarpe geox con il 50 per cento di sconto sandali flat e zoccoli con il 30 per cento di sconto per i bimbi le occasioni non mancano con scarpe geox a 29 euro e l'helli kelly al 50 per cento come sempre il servizio e la nostra qualità fanno la differenza anche l'uomo trova tanto assortimento e cuna dei particolari senza dovere mai scendere a compromessi il meglio al minor prezzo grazie al 50 per cento di sconto in questo reparto per gli sportivi continuano la super promo del 50 per cento di sconto su nike e sketchers uomo e donna senza dimenticare che abbiamo uno dei reparti scarpe da ballo più forniti della toscana con scarpe professionali a partire da 49 euro infine le occasioni con sconti fino al 50 per cento continuano nel reparto borse e per i più esigenti ricordo le borse artistiche scarpe e accessori dipinti a mano da me siamo a pievegnevole a 500 metri dall'uscita dell'autostrada di monte catini terme direzione monsommano gibbini 30 giorni di comoda convenienza